guarda lì che macello è un disastro e non si vede manco più niente laggiù e poi non è che bagna guarda che roba oh porca miseria un'umidità che non è umidità perché non bagna le strade non bagna più niente non è la nebbia è solo smog uno smog che non bagna una nebbia che non è nebbia che non bagna che macello che schifo di realtà 24 febbraio du mila e 23 fa 21 gradi de fora c'è il sole 21 gradi guarda un po guarda il cielo tutto bianco sono le ore 16 di pomeriggio c'è l'edutore gemelle qua sta nel restaura tutto c'è l'impalcatura che ci fanno gli appartamenti indipendenti ognuno che c'ha la porta sua dopo ogni famiglia bestemmia dio la madonnina se bestemmina vicenda dopo c'è sempre i vicini di casa incazzati intignati e la il cielo è bianco completamente schermato e chimico l'aria chimica e qua giù un tempo c'era tutti i garage ognuno delle famiglie sue perché c'era la pace e lì c'è una una stanza lì sotto che mi gustava boccacce ma e ce deve andare solo batman lì sotto oppure il pinguino di batman e la invece c'è un'impalcatura che stanno a restaurare pure lì un edificio vedi lo stanno restaurando laggiù ci hanno messo i pannelli solari vedi per prendere l'energia dal sole l'energia verde qua la solita ex fabbrica di organetti trasformata in una palestra di di arti marziali e laggiù via montello dove che ho abitato io lì sopra lì al quarto piano e niente e poi sono previsti e tanti gradi sotto zero non si sa quanto però c'è proprio una sfuriata di inverno è previsto l'inverno totale perché viene giù il freddo dal polo nord a meso cuccia meso chissà se è vero o no stavolta perché tre mesi e tre mesi che mette la neve giuliacci ma non c'è stato niente qui nemmeno con il microscopio e mo potuto vedere la neve nemmeno col microscopio le mo vista adè dice che farà due metri de neve nelle costi vedremo sa neve dai tutto al più usero i bobbe guarda due che i bobbe due la mesi mi padre che i bobbe che me stati che me stati pervenuti du cavolo la mesi giolo scantinato i bob senza sella senza niente quelli e pericolosi bisogna usare un cuscino perché se chiappi una boga te spacchi il filo della schiena mani paralizzato sa mica scherzi perché capirai tutta una boga quale strade se fanno spessore di un centimetro non ci puoi andare col bobbe ci vuole un metro di neve almeno così anche se c'è le buche non è che le chiappi non niente non te fa niente ammortizza guarda che roba tutto bianco tutto chimico dopo ci lamentiamo che piamo le malattie è ovvio no è ovvio a posto te saluto anche oggi 24 febbraio 2023 guarda un po un conto matematico degli anni 50 ora 1958 vedi 20.800 lire ora a 1958 hai visto che roba guarda che roba un conto matematico del zio umberto questo l'ha fatto zio umberto qui l'ha disegnato zio eterno riposo donna zio umberto signore splende a lui la luce perpetua riposo in pace ame fine a luce allo allo a nomi a è Grazie per la visione!